ciao a tutti e bentornati sul canale di safutobu eccoci qui con nio sono tornato nella regione chugoku e vorrei provare questa missione i segreti dei morti ho dato un'occhiata l'equipaggiamento e ho visto che abbiamo ottenuto un bel po di katane tutte uguali dello stesso tipo però sono di livello più alto dell'arma che sto utilizzando la tagisa sadamune e vorrei continuare comunque ad utilizzare la tagisa sadamune per l'effetto bonus che che ci offre e pensavo di fare una finita d'anima con queste spade visto che comunque ne abbiamo diverse sono tutte tutte simili per potenziare ulteriormente il nostro attacco torniamo quindi dal fabbro mi ricordo forse se conviene comunque avere anche l'altra arma con il massimo livello di familiarità probabilmente dovrebbe passarci un elemento di quelli trasferibili qui che cosa abbiamo aumenta il danno in proporzione al numero dei nemici che hai sconfitto quindi questo va bene quando sconfiggi tanti nemici consecutivamente invece ad esempio qui abbiamo un danno combattimento ravvicinato ma del chi però no allora mi va bene così l'arma così come quindi proviamo un'affinità d'anima vediamo se mi ricordo anche perché da un bel po che che non ne faccio una mettiamo la tagisa sadamune e andiamo a proviamo a sacrificare questa e otterremo la tagisa sadamune di livello 150 più uno diamo solo un'occhiata a tutti quanti gli effetti rimane tutto uguale ovviamente con dei valori un po più bassi perché l'arma poi scende a zero con la familiarità vai quindi abbiamo fatto questa cosa qui l'arma adesso a livello 150 più uno però abbiamo sempre il buon cote eccolo qua che ci torna in aiuto a no devo utilizzarlo 5 volte beh sì ci siamo quasi e può bastare così anzi no 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 voglio essere al massimo della forma perfetto abbiamo di nuovo i valori che avevamo prima però l'attacco è aumentato quindi adesso abbiamo 821 e ci siamo qua quindi proviamo questa nuova missione dovremmo essere un pochino più più potenti do solo un'occhiata veloce agli spiriti guardiani abbiamo Susaku e dai bawashi va benissimo Susaku l'abbiamo potenziato alla fine dello scorso video quindi diamo inizio alle danze qui c'è Tome che ci dice che tutto quanto a quanto pare il mio bisnonno non era solo un grande fabbro ma anche un valente guerriero solo un tantino eccentrico giurò di insegnare i segreti della sua arte solo a coloro che sarebbero riusciti a sconfiggerlo il risultato è che nemmeno mio nonno sa tutto quello che c'è da sapere su di lui Anjin tu puoi parlare con i morti no? quindi se dovessi incontrare il mio bisnonno potresti chiedergli di rivelarti i suoi segreti giusto? tu sei molto forte credo che accetterebbe proviamoci eccoci di nuovo qua in questo luogo qui a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti conserviamo Susaku per ora oh che fastidiosi questi ragni wow mi ha punito immediatamente questi maledetti ragni sono wow è il momento di curarsi come non detto ho sprecato un elisir che brutto raggio d'azione che ha questo maledetto ragno vediamo se mi fa curare oh no che brutta compagnia ah ma c'è anche la tipa lì wow che botta volevo sistemare l'ombrellino perché mi da un fastidio oh eh questi non sono assolutamente da sottovalutare eh disturbano tutti ecco è ovvio ovvio mi ha punito immediatamente e mi ha ripunito e mi ha rallentato dobbiamo andarcene via ah di nuovo vi ho già detto quanto non sopporti questa tipa qua vero ok proviamo la l'impugnatura bassa ok oh oh tutti e due allora usiamo Susaku wow non è stata una buona idea che altro perché non gli ho fatto granché però abbiamo sempre i talismani eh e li uso ancora e li uso ancora vai bruciatevi vai bruciatevi bene ok ok uh le testine no no questi mi stanno attaccati non mi mollano più no anche lui sì allora qui massima cautela makibishi uh via che brutta situazione ecco makibishi 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 cambiamo spirito guardiano anzi mi curo makibishi e utilizziamo maledetto maledetto ok lo rallentiamo magari anzi via 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 ci sono altre teste via 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 no 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 via 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 non riesco a puntarli vediamo se li riusciamo a finire così quell'altro intanto mi spara da chissà dove non riesco a finire così via maledetto oh via 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 bio via 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 comunque anche qui devo dire grazie a a Susaku e dai Bawashi perché mi hanno aiutato davvero tanto comunque ce l'abbiamo fatta qui il nonno di bisnonno di Tome era piuttosto incavolato nero vediamo un po' i segreti che aveva da nascondere se ci dirà qualcosa in più missione completata hai davvero incontrato il mio bisnonno? allora abbiamo molte cose di cui parlare se ti ha insegnato le sue tecniche segrete io potrei tradurle in risultati tangibili ci vediamo alla fucina e intanto ci ha lasciato il magatama frammento di vino buono lingotto e pezzo di ferro spirituale quindi un po' di materiale diamo un'occhiata però al magatama che ci ha dato e non sembra male già a partire dal moltiplicatore difensivo poi anche tutti gli effetti di stato non mi sembrano malvagi ottimo abbiamo completato un'altra missione finalmente meno male direi che è andata piuttosto bene questa è una di quelle missioni che poi diciamo se non va bene puoi rifarla anche un sacco di volte perché tutte queste ondate di nemici mi era già capitato con la missione dei maestri marabashi marubashi anche lì purtroppo sono entrato in un loop incredibile di sconfitte una dietro l'altra per un motivo o per l'altro poi ce l'abbiamo fatta allora direi di continuare a farmare ancora un po' di di oro benissimo ho sconfitto altre cinque volte le ho sconfitte tutte e due altre cinque volte così abbiamo farmato un altro po' di oro mi ha lasciato anche il test antico e quindi possiamo andare avanti mi ha lasciato come al solito un sacco di di pezzi di armature armi che diciamo per lo più non utilizzerò quindi facciamoci un altro giro da da tome prendiamo tutto dovremmo aver sbloccato anche ecco un titolo in più visto che era uscito dominatore della missione penso per averla conclusa più volte allora qui possiamo aumentare ancora un po' magari il ninjutsu l'effetto degli elisir e ancora il ninjutsu perfetto quindi adesso abbiamo un altro bel po' di oro e amrita la possiamo aumentare di un livello aumentiamo ancora un po' magari aumentiamo ancora un po' abilità diciamo poi un level up su abilità destrezza e magia in modo da avere poi sempre qualche punticino in più da sfruttare per qualche abilità interessante qualche cosa e con il resto degli amrita finiamo di potenziare dai bawashi perché questo oltre a Susaco è lo spirito guardiano che sto utilizzando di più quindi per me diciamo mi sembra una buona scelta almeno potenziare i spiriti guardiani che uso di più allora ragazzi perfetto io mi fermo qui salvo quindi abbiamo farmato un altro po' e con il prossimo video penso che andremo avanti quindi controllerò le missioni che rimangono e poi farmeremo ancora un po' di oro pian piano quindi dovremmo riuscire a sbloccare anche l'ultimo trofeo io vi ringrazio per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu ciao a tutti ciao a tutti Grazie.